Ikevision presenta Axiomab, l'ultima novità nei sistemi di sicurezza. Tecnologie anti-intrusione e video convergono in un unico sistema. Una vasta gamma di sensori protegge la casa, l'ufficio e la famiglia, per una copertura totale ed una sicurezza senza compromessi. Axiomab è pensata per combinare estetica, tecnologia e affidabilità. Il design elegante e compatto si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambienti. Le procedure di configurazione avvengono in pochi ed intuitivi passaggi. Axiomab è totalmente compatibile con la tecnologia video di Ikevision e con le piattaforme software IkeConnect e IVMS, permettendo così il controllo completo e la verifica degli eventi. I sensori di rilevazione fumo ed allagamento prevengono pericoli e tengono la famiglia ed i propri beni al sicuro. Inoltre, con la tecnologia Intruder Verification, è possibile ricevere immediatamente una notifica di allarme, anche se il sistema e le telecamere venissero compromesse. La comprovata tecnologia wireless bidirezionale, made in UK di Axiomab, grazie alla supervisione, alla doppia frequenza e all'anti-jamming avanzato, rende il sistema stabile e sicuro. L'alta sensibilità e la portata radio oltre 800 metri rendono Axiomab la soluzione adatta a tutti gli usi commerciali o residenziali. E siamo solo all'inizio. Presto, la piattaforma Axiom consentirà il collegamento con altri dispositivi smart della vita quotidiana, come illuminazione, riscaldamento e altro ancora. Antiintrusione con visione. Benvenuti nella convergenza.